Ehm, ok, sicuro che sta recitando l'audio tutto, si sta recitando, ok perfetto, quindi, ehm, ok, e buonasera a tutti i ragazzi, da, da, e poi iniziamo a sentire già risate per nessun motivo, ah beh, eh no, per, pazienza, amla, 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 pazienza. Ehm, e quindi siamo nell'undicesimo episodio di sto cazzo, ehm, ehm, sì, sì, siamo solo noi, siamo solo noi, ti metto a 90 e poi, oggi siamo qui, giudice puposo che tra l'altro questo qui è uno speciale per il suo 5 centesimo livello, quindi come, per oggi sono il giudice raffreddato, non puposo, anche se non ho raffreddato, però vabbè, eh, posso, posso? Salve a tutti, ci sono anch'io, fermi, ci sono anch'io, ci sono anch'io, eh, ci sono anch'io, eh, gli ho detto pure l'umano. Ma che c'è l'Oxy, questo? 3-2, ancora più, combattuto. E con passi a caso? E con passi a caso? Sì, con passi a caso, c'è l'Oxy. Sono stato molto violento, ma... Cosa è successo? Un nuovo, un nuovo ospite a caso, l'Oxy, perfetto. Ciao! Quindi si faranno due di tre, e basta. Quindi Yuri, poi, far partire da 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 parte che sono io, quindi lo farò io. Aspetta che tu ci fai il 小... Dai, le ghost contro gli altri, due. Ah, ok, perfetto. Perfetto. Sì, le watched contro gli altri. Sì, le squadre? Sì. Ok, ok, sì. Dai, ragazzi, andate a scopare prima ghost e poi dopo. Io pensavo... No, ci fai datare. Di fare altri. Ok, allora, oggi voglio giocare come un mostro. Va bene, gazzi Rega, aspettate, è la prima partita del giorno Devo un po' migliorare la mira Ah, non ho turbo Stavo volando senza turbo Oh, porca portana Ok, oggi faccio schifo, ho già capito Vai allo xe Guida Io arrivo al centro Vai No, me l'ha tolta il fruccio Ok, ho capito il trucco, ragazzi Allora, uno la passa, uno toglie Davo L'altro fa gol Oh, ha sbagliato Oppure, oppure ancora meglio Io gli faccio un flick Mi spiace, stavolta no No, giù giù Di merda E Davo, cosa dovremmo dire di te? No, mi hanno scopato in 40 Sì, sì, sì Stanno giocando l'Inter e Napoli L'XD, Coppa Italia Cacca Italia Ecconi le trovo persone Io ero da misína, c'erano di abbassare la teraz Sopra Boom, veo D timber Garo, gabbet al treno Salmo Sopra sam Garo, che cazzo, vai grazie vai, vai tagliando o l'falto Sopra Dove Schott Ah accompanied by Scusa, lo staccia Via, essendo che non c'ho sempre la vulcana non riesco a vedere chi c'è dietro chi c'è davanti che c'è subito Sparata a metà campo che è finita nella loro metà campo Molto molto tubo in questo passo Ah, no, becino, ho fatto tutto il rapporto, perfetto, bella per lui Eccolo d'ambrosio che cerca Mi fa scappare Vai l'oss, un bel tiro Vai tirate, no Ci sta davvo Scusi di merda Sto laggando Che schifo Ragazzi, mi fate proprio schifo Con il lag, attenzione Ah, che fa Ah Se l'aveva pagato, poi l'ho sminta in portalox, mi sa Eeeh, vediamo Esatto Ma dai L'ho sminta in portalox e lololix Dai, però, guardate, lo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma vaffanculo, dai Sei cazzo Oh, non ci Ci vedo No, non ci Venga, potato league Potato league Che culo Poteto league Gli spiace di Ti dico Mi sono alzato al massimo Mamma mia Eeeh, no Ho spinto male, ho spinto male Ho spinto male Eeeh, ha tirato Ah, invece volevo tirare una mina Ha tirato Oh, mi dispiace Contropiedismo Il tiro di merda Abbiamo vinto Cosa faccio il terzo Scusami Guarda Guarda E' finita la partita Mamma mia Così secco Io con Allox non ci voglio più Ho fatto 8000 parate Sono 7 parate E' arrivato un amico Adesso vado io Quindi lasciamola Ma per favore Tu sempre in porta Perfetto Facciamo 80 gol Parate a partita Adesso Tua zia Adesso che dovevi tirare Non si vede in un punto Ma poi di che lo fai a forno Ma è oggi No Ok Ok Prova il vostro Bravissimo Vabbè Non so Palla Fattila 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 Che ci sono Che cosa ha preso Cosa ha preso Aia Sì Sì Bump L'ho pure Bumpato Ma mia Bump Fattila Cioè Adesso di capitolo Bella Bump 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 Pug Riuscire Bump Oh Come disse DeUrando Non va Non va Non così Godo Godo Come una Fettila Come un riccio Come una Perfetti Vediamolo Fattila Vediamolo Fabio Guarda Un millimetro Sì atto poteva fare un doppio spazio o un mondo un po' di schiazza polizia quanti centimetri eeeh un po' di cinque un po' di rossi diversa con un'altra rosa vai 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 un po' di 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 dai rega non è non è quello si 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 ma si cosa ma si cosa perché avete fatto un gol del cazzo e che è questo siete in 20 contro due si io i si io i avevo demolito da ho fatto anche esplodere da non c'è non ho riuscito a segnare incredibile il gol il gol c'è il giudice ragazzi il giudice notine con e che un po' come un mezzo mezzo la storia di vita entro da un po' di tanto la tigia un'azienda il disco noi ok voglia la bota ho fatto ho fatto con il napoli ho fatto con il napoli ho fatto con io non il napoli ho preso l'applico del pallone non ho preso allora ho preso io il proprio il proprio ma che fanno da roba cos'era altrimenti mi fatterebbe uscire un po' pericolosi un po' pericolosi un po' pericolosi ma questo è tuo fratello un'unico esatto ha la voce più sexy del mondo interista Bok interista Duloc e tu sei farma Duloc ho fatto un po' pericolosi oh me gatta Guruga fratello c'è la compadella il gol voglio fare gol io voglio fare non vuoi farlo ok siccome è fatto provo a fare la bella con le stesse squadre esatto salutiamo il nostro spettatore ciao Spring 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 ciao Primavera siamo in mezzo alla spiaggia vai Davo concentrati adesso vado a demolire tira adesso tira adesso mi dispiace stavolta non ci casco era il passaggio per il giudice io che schifo ti tiro mi dispiace mi spiace se mamma allora dove l'hai infilata l'angolino sul secondo pap mamma mia allora facciamo più scena ma che me passa l'incrocio è andata mamma mia c'è zio c'è zio c'è ciao c'è encourage ah oh guarda dove cazzo c'è è in fila vai a lox no vai giudice nooo aspetta è lag madonna avevo visto tu dove è lasciata un discorso E basta fatti gli affari tuoi vino vino di farà ci tuacci L'ho chiamato vino adesso. Ma non Andarla la nostra porta perché tra anche i suoi compagni capri No, dunque non doveva cadere poche Non doveva accadere Stava parlando da solo no no non doveva accadere Non doveva cacare Non doveva cacare Grazie, grazie mille 3 contro 1 No, 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 no Neanche 3 contro 1 Sono stato salvato dal palo Sono stato salvato dal palo No, mi spacio Oh, gol L'intesa? 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 No Ma cos'è? E' lo spinto verso la porta Sì, ragazzi Guarda come l'ho spinto Ma ma l'ho Ma l'ho Ah perché Ah l'ho che spattatore bene Bene Cos'è? Cos'è parato? Sto sto Ma perché non partite mai Frucci Perché voi non state mai in difesa? Che cos'è? Non mi è piaciuto Che schifo di cocco Che schifo di cocco Oh, non va in porta, ok Che schifo di cocco Come il pane e il cocco Sta per entrare Cristian Oh, Ericsson Ma non c'è Cristian Cristian, segna per noi No Cristian sono io Quindi adesso segno io Io ristaccio Basta, capri, vampami Senti Sono l'unico che riesce a fare gol, forse No, non è vero Cheat Ma com'è che hanno entrato in tre su ogni pallone, ragazzi? Cioè, che regolante Sì Quando leghiaggio, però Io ne metto in porta Poi ci sta dando O che passaggio Guarda, passaggio Il gol Provinire il gol No, no Allora Ho fatto più Io Ho fatto più Io ho fatto più Che Mi fattendo aspetta e spera Per esempio Vorrebbe essere entrato È entrato con la sega di sprint Eh sì Ma ragazzi E' perché lui Non lo so Oh no Si Cosa 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 Ma sta giocando con noi E' da dove si spazzarla Certo 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 Tirare Ah, questo Tirare Passaggio Non c'è nessuno, ovviamente Sì Pring Attenzione E' una droga Altra Double Bello Un bel double per me C'è davo Fanculo Oh Oh Sulla spinta male Vai spring Facci sognare spring Spirare Sulla Un che Passaggio Un che Quasi Sulla Quasi Si alto molto basso, quindi devi fare tipo una via di mezzo ti abbassi con il turbo se il tiro è la sua terra e quando il tiro è la sua terra ti alzi tipo come ho fatto io prima con quella pagata epica bella il passaggio da qualcuno, non so chi, perfetto per me? si, è quasi non mi fottere i turbi però strano si cosa? questa è una 4 contro 2 palese ah, springo il controllo no, questa è una 4v4 palese questa è una 5v5 palese oh, come negarlo oh come, stiamo perdendo che schifo di tiro dai, dai, devi fare un call, dai guarda che, sora dai, dai trafo, trafo, trafo ai caprici bella sta inbox, raga, bella non volevo scrivere quel passaggio prignoli prignoli fantastica hitbox grande psai ace all'incroco ericene, ho girato ma che cazzo no, cazzo abbiamo lo stesso nome no no, eh, ok entrami di che nove golli ma che era funizio eh, no, scherzo quella di prima è un cosa? sento davo era funizio no, ti ho preso mai il tempo preso mai il tempo no, non sì sì, però che pare, ragazzi non era meglio fare 4v2 e non 3v3 casina tutti ma, sì ma, chi se ne frega autogol io non ci posso autogol di davvo facciamo una 4v2? ma, sì, dall'ultimo tiro, arriva in porta padelli che succede? perfetto 4v2 ciao, ghost è stato bello è stato bello oh, lautao cosa fa? lautao, martinao lautao fra lautao, martinao ma che... non ci credo ora che passaggio cioè, che passaggio te la stavo parlando cazzo è successo che fa un guai ma, no, che passaggio è un reflip sono linee tre volte lì guarda lì, ole ma, 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 che spiega non ci sono, non ci sono, non ci sono oh 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 mia, mia vieni, 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 vieni vieni, vieni sono da no, ho sbagliato ah volevo fare il flip presento totalmente vedo che casino ma cosa ha fatto Rauti ma, ma la Rautao ma, tizzo sono delle campane mi scopo le pupane lì, lì, lì dove si fa giù, dice la ti dico vieni fatti parata davo è una di quelle persone che proprio ti rovina i momenti beh oh, sì al portiere mmm volevo provare qualcosa di vero, non c'è il turbo non c'è il turbo mamma mia il giudice ha fatto un bel gol grazie grazie ah, non c'è il turbo il turbo non avevi un turbo il socio che è fatale eh il centrale non la potevi tirare gliel'è passata ahahah non c'è più un cazzo da scopare vabbè, pazienza non si può scopare ormai cheat eh, no, Iuri, c'è data qualcosa devo scopare voglio entrare nella tua figa eh, 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 eh no, ma che c***o raga Guardatevi questo pinch Adesso ve la voglio parare Basta fottermi i torbi, i biori di merda Il gol è stato bello 4 di 2 è tosta Comunque avevo ragione Subito dopo aver registrato Avevo ragione Scusa ve lo faccio Cos'era la cosa? Ho fatto un pinch con un run Che ha fatto l'assistere Bene Sono contento Con un bel bambone No mi spiace No il redirect Me lo faccio incrociare Io voglio Vieni qua Voglio entrare per bene Ho spinto il giudice super Entra nella mia figa Ok Ok Questa va pupata Se non avessi fatto comunque 6 parate Sarebbero in 3-10 gol Bene Sono contento Davo questa va pupata Questa partita va pupata Perfetto Vabbè allora facciamo la outro belli miei Quindi noi ci salutiamo Spero che queste partite vi siano piaciute Soprattutto per le mie parate belle Che gli altri fanno schifo Sto smazzando Siamo tutti Sei bravi E quindi Ciao Ok Ciao 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 Ciao